È un investimento importante, 9 milioni in tre anni, la Sicilia non è nuova a questi grandi eventi, qua sono i mondiali di scherma che saranno ospettati al Palaghiaccio e strutture, un sacco di altre strutture di Catania e dintorni, che è il grande evento di quest'anno, prende l'avvio, mi pare l'inaugurazione l'8 di ottobre, 1100 atleti, non parliamo di quante squadre e quant'altro, la città di Catania e la Sicilia lo sapranno ospitare, lo sapranno e lo sanno ben organizzare i tanti esponenti da Manzoni a Scarso, allo stesso costa del Coni, che chiaramente tengono alta la bandiera dello sport siciliano. Teniamo presente che si tratta di un evento che anche dal punto di vista dell'economia turistica ha una grandissima rilevanza.